Buona giornata, vedete che posso lasciare la coronazione Agnes della Cassina Italiana. Ovviamente la prima giornata si apre forse a Roma, punto 2 di coronazione Agnes con la sigaretta sulla latte, dove c'è una sorpresa importantissima, per i miei patentati, che hanno la patente via. Un bello che ciò di raccontare è tutto. Allora ragazzi, sapete? Allora, voi che in quinta superiore avete visto tanto guardate le registrazioni che avete fatto sul sito, la maggior parte di voi è stato in cui si può arrivare a qualcuno che si deve ancora arrivare, ma non è un problema. Nel momento in cui prenderete la patente, potete neanche fare per voi un progetto che si chiama Leopatentate. Scordate bene perché è molto interessante. Questo progetto vi dà la possibilità di informarvi sulle tecniche di vita sicura e sulle buone norme per me. C'è un sito web dove c'è una profusione inelente, quindi è una cosa abbastanza leggera da fare, simpatica, accattivante. Ve lo potete imparare, come si può comportare la macchina in una situazione di emergenza, che cosa è bene imparare e magari che cosa va in Italia. A termine di questo percorso teotico che viene dato da tutti, iniziati a scaricare un simulatore di guida sicura, che dopo io vi provo a vedere sul track che avete visto qualcuno dalla scuola, farete proprio il simulatore. Ecco, in tutto ciò noi vi assegniamo dei punteggi. I migliori punteggi vincono un corso di guida sicura. La fondatoriana mette in pagio ogni sei mesi circa 300-300 corsi di guida sicura e questi corsi vengono dedicati appunto a voi. Sono corsi che si fanno in un anno abriatico con vetture belle, per esempio, di MQ e di MQ. Una volta che fate il test sul sito, ovviamente voi siete avvantaggiati perché siete tra i primi a venire a conoscere queste opportunità, quindi avete più tempo per prepararlo. Io il suggerimento che vi do è quello di ascoltare molto bene quello che io vi do dopo l'altro e quello che vi dirà Simona adesso, perché tutte le informazioni che noi vi daremo sono propedeutiche per ottenere un buon risultato. Vi dicevo, il corso si fa in un anno, per una giornata, ed è una bellissima opportunità perché potete imparare fin da subito a girare nella maniera più possibile. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.